Eccoci qua, si accomodi, scommetto che lei sceglie la destra, vero? Non ci siamo lì, io c'è il gol nord. La sedia regge? Speriamo di sì, allora le faccio portare un seggiolone, va bene per lei, perché lì non si arriva. No, ma arrambico. Beh, un istinto scimmiesco. Buongiorno e benvenuti al Family Lunch per farvi conoscere. Ricchi ha scelto l'antipasto. No, scusi, Ricchi intendeva Riccardo Maria? Sì, esatto, Ricchi. Tutte le volte che sento che lo chiamano Ricchi mi si chiudono i vasi sanguigni. Metteremo i fiori da un'altra parte. E il nostro chef vi introdurrà i piatti. Come antipasto abbiamo una specialità, un cuore di mozzarella di bufala biologica, Ponte Reale, a chilometro zero, su una bellutata di cavolo viola, con pepe nero del Cicciuan della Mongolia. Ma che ce l'hanno, ci guagua? Sì, ci mangiamo uguana. Questo è il menù che fa il catering quando faccio la festa di Natale lì in fabbrica, lo sai? Sì, noi diamo anche qualche cosina in più. Sì, parte le ostriche e poi c'è l'idea della schiscietta che... Fa molto Milano. La nostra Ile invece ha scelto un cucchiaio di carbonara allo zafferano. Ah, buon appetito. Ho detto io che ci fai contro gazzi. Carbonara allo zafferano? Ma tua figlia si è rimambita. Ma no, innamorata. Buongiorno a tutti, scusate ma... Cioè, mi è calato il vento e stavo lì che... Ma come è dato tutto? Sono schaffati. Ma quello che... Ma questo significa che... Nooo... Quando ha finito di stupirsi mi stupisco io. Ma il mozzo è vostro parente? Certo, è mio cugino. Il mozzo cugino? Non sicuro. Il mio preferito di Elenia. Ma la zì? Tua figlia si sposa. Congratulazioni. Il mio figlio chi? Come tuo figlio chi? Riccardo. La sua fidanzata l'ha annunciato sui social. Io sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sì, d'altronde non vi parlate da mesi. E chi è lei? È un influencer. Ah, un medico, bene. Ma no, papà, si mette dei vestiti, si fa delle foto e le posta. Sul telefono? Mh. E le pagano? Sì, moltissimo. Eh, meno male, no? Indovina dove si sposano? Dove? A Gaeta. A Gaeta? Ma hai sentita? Dov'è? A quel posto dove abbiamo comprato quei terreni per costruire quell'albergo e poi non ci hanno mai dato l'autorizzazione. Senti, ma tua mamma non sa già che si sposa? Non ancora. Ma vedrai come sarà contenta. Vedrai. Ha visto come è contenta? È di Gaeta. Sì. A me non è una brava ragazza. E che lavoro fa? La fashion blogger. Che cos'è? È un influencer, no? Sarebbe una che per danaro veste la gente per telefono. Ciao a tutti. Oggi vi voglio parlare del bravo Marco Giallini che al cinema esordì nel 86 in grandi magazzini di Castellano e Pipolo in cui però era praticamente solo una comparsa. Fu il suo amico Valerio Mastrandrea poi a fare il suo nome a Dino Risi. Il regista lo andò a vedere a teatro e poi lo prese per interpretare il marito della Bellucci nel film L'ultimo capodanno del 1998. In quale ruolo vi è piaciuto di più? Fatemi sapere nei commenti. E se ancora non l'avete fatto iscrivetevi qui sotto e cliccate la campanellina per ricevere le notifiche. Ciao da Valeria.